Il 15 di ottobre si avvicina e quindi noi continuiamo a parlare dell'obbligo di presentazione al Green Pass nei luoghi di lavoro. Ieri il Presidente del Consiglio ha firmato un DPCM che riguarda proprio il Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati. E di questo parliamo con Monica Setta, giornalista economica, con Gianluca Timpone, nostro commercialista, con Raffaele Morelli, psicoterapeuta, e con il Dottor Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Presidente, al quale facciamo subito la prima domanda. Voi state lavorando da giorni sulla dimensione di questa cosa che sta per avvenire. Vogliamo vedere qualche numero, Dottor Cartabellotta, per esempio anche sui tamponi che saranno necessari, perché anche di quello parleremo. I numeri sono molto importanti, ma sono importanti anche i trend. Noi già tre settimane fa avevamo lanciato una sorta di allarme, perché ci eravamo resi conto che di fatto la progressiva estensione del Green Pass, con i tre decreti legge, il 105, il 111 e il 122, aveva determinato un'impennata nel numero dei tamponi antigenici rapidi, ma di fatto aveva avuto un impatto molto modesto sui nuovi vaccinati. Siccome il Green Pass viene rilasciato a 15 giorni dalla prima dose, è evidente che non ci possiamo preoccupare oggi, a due giorni, a tre giorni dal 15 di ottobre, perché di fatto non stiamo vedendo un incremento dei nuovi vaccinati. Tornando ai tamponi, qual è il vero problema? È che di fatto noi oggi abbiamo stimato, partendo dai 6,2 milioni di persone che stanno in età lavorativa, che più o meno i lavoratori dovrebbero stare intorno a 4 milioni, perché il tasso di occupazione dell'Istat nell'ultimo quadrimestre del 2020 è intorno al 63%. Poi è chiaro che si tratta di un dato approssimativo e verosimilmente di cui nessuno conosce nei dettagli, nemmeno fonti istituzionali, perché ci sono tanti elementi di confondimento. Ma anche se fossero tra 3 milioni e mezzo e 4 milioni, dovendo fare tre tamponi la settimana, questo significa che noi avremo bisogno da 8 a 12 milioni di tamponi la settimana, se queste persone decidessero di non vaccinarsi. La domanda è chi le fa, se noi oggi nelle farmacie ne riusciamo a fare, farmacie e strutture convenzionate, circa 1 milione e 200 mila la settimana. Cioè nel giro di pochissimo tempo si chiede al sistema di decuplicare praticamente la capacità dei tamponi. La domanda è che cosa deciderà di fare la politica. Ecco, allora lo giriamo proprio a Monica Setta, naturalmente senza voler fare la Sibilla Cumana rispetto a quello che il governo deciderà, però che cosa emerge dal DPCM firmato ieri? Allora, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato da Mario Draghi emerge intanto diciamo il 15 di ottobre tutti i lavoratori, parliamo della pubblica amministrazione, lavoratori non solo, lavoratori della pubblica amministrazione, ma anche i lavoratori delle cosiddette aziende a cui vengono esternalizzati, cioè l'outsourcing, per esempio le additte appaltatrici per pulizia, eccetera, collaboratori, consulenti, tutta questa gente tranne gli utenti devono avere un green pass. Devono avere un green pass perché nel momento in cui verranno fatti i controlli e i controlli saranno fatti sia all'ingresso ma in un range temporale abbastanza ampio per evitare gli assembramenti e poi saranno fatti a campione in una percentuale non inferiore al 20% del totale. Se tu vieni trovato senza green pass, il datore di lavoro ti sospende, ti sospende nel senso che quella diventa un'assenza ingiustificata a tutti gli effetti. La domanda principale che si fanno tutti a casa è vengo licenziato? Al momento no, nel senso che tu sei sospeso, la tua è un'assenza ingiustificata, però non hai né contributi e né ovviamente scatti. È come se la tua situazione fosse congelata, quindi il green pass è fondamentale per quello. Però c'è un'altra cosa, la gente si chiede, ma se io per esempio non sono no vax ma sono in idoneo al vaccino, perché c'è una platea di 3,3 milioni di gente che ancora non è vaccinata, non sono tutti no vax, c'è gente anche che ha dei problemi. Ecco, lì serve una certificazione anche cartacea che attesti l'impossibilità per cause ovviamente medicali di potersi vaccinare, oppure attesta l'attesa alla vaccinazione con un apposito QR code. Dottor Timpore, Monica adesso già accennava le sanzioni per i lavoratori, ma i datori di lavoro cosa rischiano se non controllano efficacemente? Beh, oltre chiaramente, prima si parlava per quanto concerne i dipendenti, quindi sanzioni di carattere disciplinare, vi sono anche delle sanzioni di tipo amministrativo che vanno da 600 a 1500 euro, delle multe vere e proprie. Poi una cosa molto importante, che poi per quelle aziende che hanno meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata da parte del laboratore, questo può essere sostituito. Prima si parlava effettivamente di queste sanzioni di tipo disciplinare. Alla lunga, più assenze ingiustificate potrebbero portare anche a provvedimenti molto più gravi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è importante chiaramente stabilire l'entità di queste assenze ingiustificate, ossia sino a quando si può arrivare con le assenze ingiustificate. E poi un altro aspetto, magari questa potrebbe essere una considerazione. Siccome il Green Pass ha carattere duraturo, nel senso che dura 6-12 mesi a seconda dei casi, nel momento in cui viene controllato la prima volta quel determinato lavoratore, potrebbe essere inserito in una prosità scheda, al fine di evitare che vengano effettuate quotidianamente queste verifiche. Cioè soltanto per il Green Pass temporaneo occorre effettivamente, ossia per quelli che non hanno il vaccino, occorre effettuare... Il Green Pass è che dura, si controlla una volta. No, no, si controlla una volta, si inserisce in un apposito elenco e finisce lì. E però, attenzione, perché nel DPCM è previsto che le aziende non possano conservare... Assolutamente, ma è importante, perché infatti non è una violazione... Qual è la ragione di questa... Ma non è una violazione della privacy. E chi dice, no, io non voglio il Green Pass perché sono una violazione della privacy. No, perché i famosi QR code vengono distrutti, quindi i cosiddetti dati sensibili del cittadino non vengono conservati. Quindi serve al momento e basta. L'altra domanda che molti si fanno, domanda di questi momenti, dice, ma il Green Pass sostituisce gli altri dispositivi sanitari? Perché molti si sono chiesti, ma allora non posso andare al lavoro senza mascherina oppure senza il social distancing? No, i dispositivi sanitari rimangono tutti in essere. Cioè il distanziamento sociale, le mascherine e tutto quanto. E il Green Pass è il mezzo fondamentale per lavorare. Perché secondo me, a parte un obbligo civile, ma è l'unico modo per cui noi siamo usciti da questa veramente difficile pandemia. Andiamo al professor Morelli. Professore, sono due anni che viviamo emozioni forti da tutti i punti di vista. Al punto sembrerebbe di capire che si è aumentata la nostra suscettibilità nei confronti di norme disciplinari, di restrizioni, eccetera. Lei avrà visto come tutti noi le immagini della rabbia del fine settimana a Roma e a Milano. Ma insomma vogliamo cercare di capire bene che cosa bolle nelle nostre psicologie. che è adesso alla vigilia di questo obbligo che è civile naturalmente, che va preso anche serenamente, però, 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 suscita delle reazioni. Vede, quando noi conosciamo la paura, perché nel momento in cui arriva l'epidemia, senza che neanche ce ne accorgiamo, attiviamo, senza saperlo, le aree più antiche del cervello. Questo lo rivelano molto bene le neuroscienze. Cioè è come se io, improvvisamente, senza saperlo, sono come l'uomo di mille anni fa, di diecimila anni fa. E quindi che cosa succede quando incomincia l'epidemia? La paura del contagio. Quindi il rifugiarsi, la tana. Perché noi oggi cosa sappiamo? Sappiamo che la gente, molta gente, soprattutto di una certa età, la paura le porta a non uscire, a uscire meno, o a non andare nei posti pubblici, o a non andare sempre meno nei ristoranti. Quindi c'è una folla che vive la libertà, la ripartenza, e quindi va nei ristoranti, va nei luoghi pubblici. E c'è una larga fetta di persone che si rinchiude nella paura. La prima psicologia della paura è la tana, mi rifugio. La seconda, la più pericolosa, parlo da medico, da psichiatra, da psicanalista, la più pericolosa che cos'è? La rabbia. Perché se tu la paura la conosci, la percepisci, ecco perché bisogna parlare a lungo con le persone che non vogliono vaccinarsi. Spiegare e rispiegare che questo virus uccide. Se ci fate caso, noi non parliamo più dei morti, perché si sono ridotti in modo significativo, ma non parliamo neanche più dei rischi. Sembra che l'unica battaglia che dobbiamo fare è contro il vaccino, in una grande fetta di persone. Queste persone vanno convinte. Bisogna spiegare che il vaccino è un farmaco per il sistema immunitario, che ci difende, ci protegge e che se non ne usciamo rischiamo di vedere una situazione cronica che si perpetua. Allora, dopo la paura abbiamo detto cosa succede. La tana e poi la rabbia. La rabbia cosa fa? Fa sì che se trovi un gruppo ideologico, avete visto bene sabato, chi sono entrati dentro, i fascinorosi, i violenti, e cosa hanno fatto? Abbiamo visto cosa hanno fatto. La rabbia cosa fa? Crea dentro di te un nemico interno. Non è soltanto la rabbia contro chi ti vuole far fare il vaccino, è la rabbia contro te stesso. Più questa rabbia diventa forte, più in qualche modo diventiamo un gruppo contro tutti gli altri che si sono vaccinati. Questa frattura si deve rompere. E lì sono molto importanti i politici. I politici devono comunicare, mai come adesso, il senso dell'unione, come è stato all'inizio, no? Quando scrivevamo sui balconi, no? Andrà tutto bene, no? Dobbiamo sentirci tutti i parti di un gruppo a aiutare chi non vuole vaccinarsi, fargli capire che è molto importante, no? E comprendere anche le loro paure. Sono molto importanti i miei colleghi medici di base in questo senso, perché bisogna che uno a uno che ha questa difficoltà venga convinto, perché bisogna spiegargli che dopo i 50 anni, a 60, se non ti vaccini, il rischio di morte è ancora molto alto, ho il rischio dell'oncovi, di malattie gravi. Quindi è una battaglia contro la paura che dobbiamo combattere. Se noi riusciamo a stabilire che la paura la possiamo in qualche modo conoscere, percepire, un'altra cosa importante, tutti in questo periodo si sono posti il problema, ma con il lockdown aumenteranno i divorzi, aumenteranno la rottura delle relazioni? No, no, perché in primo piano cosa c'è? La paura del corpo, della malattia. C'è un altro problema ancora, gli adolescenti. Nessuno si sta occupando degli adolescenti. Mentre i bambini per molto tempo riescono giocando a superare queste paure ataviche, e soprattutto a portare anche la gioia nella famiglia, perché i bambini quando giocano fanno ridere, divertono, gli adolescenti sono perduti, perché l'io sociale degli adolescenti è tutto costruito sull'esterno, sul rapporto con gli altri, questi rapporti sono stati chiusi dalla scuola a distanza, quindi dobbiamo capire che continuando a trasmettere rabbia, noi continuiamo a aumentare le paure. Sì, e poi cercheremo anche di capire per quale motivo, insomma, in questo momento, questo che è uno strumento, come ci dicevamo, di riappropriazione, diciamo, delle proprie libertà, invece viene considerato come uno strumento che questa libertà la limita. Ci torneremo, però io prima voglio tornare da Presidente Cartabellotta, solo perché, insomma, poi dobbiamo, come dire, riportare alla realtà dei numeri, quello che ci sta per accadere. Di quante persone parliamo quando parliamo di coloro che in questo momento non sono muniti di Green Pass. Abbiamo una stima? Ma il numero esatto non lo conosciamo. Sappiamo sicuramente che ci sono, come dicevo poco fa, nelle nostre stime circa 4 milioni di lavoratori non vaccinate. È un numero che è difficile, voglio dire, da definire con precisione, perché è condizionato da numerose variabili, quanti sono guariti negli ultimi sei mesi, quanti sono esentati per patologia, la distribuzione tra le varie fasce d'età rispetto a quello che è il tasso di occupazione, il numero di vaccinati tra lavoratori e lavoratori non è omogenea. Comunque, per quello che riguarda il mondo del lavoro, se non sono 4 milioni, sono 3 milioni e mezzo, sono 4 milioni e 100. Quindi il problema reale è come gestire, nel breve termine, la necessità di effettuare una grande quantità di tamponi antigenici che in questo momento il nostro sistema non è in grado di garantire. Grazie a tutti.